Eccoci qui allo stadio di Sesto Fiorentino dove domenica si giocherà l'atto finale dei due grandi tornei organizzati da Toscana Gol, la Winter Cup esordienti buona al mattino con le finali terzo e quarto e primo e secondo e nel pomeriggio il grande programma del Galà Toscana esordienti McDonald che come da tradizione si giocherà con le finali dal primo all'ottavo posto. Sarà una grande domenica di calcio qui in questo stadio bellissimo, rinnovato, guardate che struttura, qua faremo la nostra sala stampa, qua andremo a raccontare quella che sarà la partita che andremo a vivere, le sei partite che andremo a vivere, questa è la nostra postazione qua fonica, Poi qua avremo invece la postazione dove faremo invece le riprese video per i DVD che poi saranno distribuiti qui, viene eccola qua la sala invece riprese tv, uno stadio bellissimo. Dall'altra parte vedete anche l'osteria del pallone, ora proviamo anche a inquadrarla meglio, ecco qua l'osteria del pallone, qua ci sarà la possibilità di pranzare, eccola qui questa zona, anche all'aperto pranzi e cene qui a questo stadio davvero bellissimo. Quindi sarà davvero una grande giornata, in questa zona qua invece della tribuna, eccola qui, faremo invece la premiazione delle squadre, faremo tre premiazioni, al mattino quelle della Winter Cup esordienti Buona, nel pomeriggio, prima quelle delle squadre dal quinto all'ottavo posto e poi alla fine la premiazione delle squadre dal primo al quarto posto. Sarà dunque una grandissima giornata di calcio qui in questo bellissimo impianto, veramente vi aspettiamo numerosi perché sarà davvero molto bello finalmente riuscire a fare la parte finale di questo torneo che doveva essere disputato nel mese di gennaio come da tradizione ma quest'anno purtroppo per il Covid abbiamo dovuto suddividerlo in più periodi dell'anno ma siamo soddisfatti davvero di essere riusciti a portarlo in fondo e adesso questa giornata finale davvero stimolante che sarà una grande festa per il calcio giovanile, arriveranno ospiti, personaggi che verranno a trovarci per questa grande giornata di festa.